ok sto cercando di capire cosa che sta succedendo con calma, cerchiamo di capire logicamente cosa succede ah ok non ancora dice che lo stai trasmettendo con le stream si riprende il primo stream, giusto? si, tanto di dire e questo qua è quello che ho avviato adesso quello in cui siamo dentro ma l'altro? lo è finito no, se n'è andato, ma meglio ma sparisce così c'è è sparito è sparito l'altro video è sparito ha fatto puff non c'è è sparito, va bene ma what the fuck what the fuck c'è quanto c'è tanto di streaming quello che ho fatto prima che ho bloccato, ho bestemmiato il compagno bello qua c'è il primo test di streaming è quello che abbiamo appena fatto dove cazzo è finito è morto va bene si comunque è di Dara l'avete già detto si si vabbè non capisco ma metto mi piace sulle mie video guarda quanto sono pessimo che fare metto mi piace lol oddio anche io metto mi piace le mie video spero di non crescere più spero di non crescere perchè c'è il temporale eh speriamo speriamo non crescere c'è il temporale non c'è il temporale comunque ho visto che ormai qua lo streaming è andato io non vedo il tuo streaming che ho fatto riprendere il primo serie dove ho in cartola no no vabbè fa niente tanto vedo il tuo cosa stai il messaggio quindi tranquillo con due schermate ho fatto pronto con un doppio schermato qua vedo nero nello streaming vedo qualcosa invece vabbè gioco robot unicorno attacco il live lo no crazy crazy lo hai chiesto tu eh l'hai chiesto tu no l'hai chiesto no no l'hai chiesto ormai l'hai detto e io accetto lì la roba provocio fare la roba di carta heavy metal allora il video così ti leggono i commenti che non leggi mentre resta e metterlo che mi ha perso come partito un b no 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 vabbè 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 successorietta dai vabbè andremi linko il foto di youtube dai che non lo vedo ok tu mi dovrai leggere i commenti via dove sei dove sei skype fin attimo ok tieni ok allora pepino ti spiego perché continua a cambiare perché siamo in due in streaming quindi fa vedere un po' la mia scremata un po' quella di war per quello allora esatto 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 il problema mi ha chiuso a dire volum del gioco altrimenti in assordo ok togliamo adobe flash player play now robot turnico attack heavy metal vb e il metal avete voluto voglia ok 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 d'accordo va bene click to play z per john pardo capisciamo capisciato yeah happy metal happy metal happy metal happy metal perché mi sta facendo giocare a questo gioco dati un perché perché loro vogliono che tu gioiai a casa gioco no no loro vogliono che giocavo quello va fanculo a quello rosa ah no no quello rosa no accontentatevi sempre robot turnico attacco come essere un pochino più faiga grazie no per faranno anche robot turnico nata calcino più no si frega un piccino piano 3 sono abbastanza bravino 1 1 non sono morto sono morto sono morto sono un culo no no rischio ieri l'evelo è il pipino che il colore il giuseppe che invitato io e come basta mi sono rotto i coglioni fan coloro.it ciao giuseppe ok leggiamo un po' le mie commenta allora capisciano non ho scritto niente capisciato io no basta quanti persone siamo nello streaming? diciamo 10 spettatori in alto a destra sullo stream sulla pagina dello streaming discota nananana allora facciamo una cosa nasconde ciao anto 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 non mi abbandonare anto stavo scherzando non ti volevo togliere ho fatto per sbaglio perdonami 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 o che cazzo sta succedendo anto ci sei? anto anto porca puttana sostenibilità andando continuando dai problemi uno dietro l'altro aspettatori aspettatori 0.1 lol anto ci sei? anto anto in alto a destra magari tendoti il microfono off andri ok ecco ti anto 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 orano scritto 4 si andri non ha paio di commentare il ritardo il commento ehm si ci si si ci sono 4 cm ehm ho creatato letto a specato stava il cesso sono in live si si ok 4 si sono arrivati allora ragazzi dobbiamo discutere un attimo di una piccola cosa ecco anche mi ho detto ecco allora se riesco a fare una cosa prima di parlare facciamo una cosa molto faica quando il schermo ok grandissimi vedete tutte testa per esempio vorrei una domanda per il caldo per i ai si vedo sto parlando è il sito che mi dici in anticipo trama vabbè sei su stima perchè è ok che gioco ma sto fare di questi allora di sigla tuo sinfoni la resta e giusto imparare il pd l'isciuta amnesia armadue armadue paesat bethfar to passando a scordi dm di chi c'è il fare chiesto di più club beric nai che essere fino a te allora quando che gioco fare sinferite le pronti ti posso bloccare le stile per per musica no se non metto 2033 magica maria ma peccato e sapere dai utenti di star wars night of the republic o ieri ho vinto anche un gioco dov'è che l'ho vinto ringarrollo vinto ieri conoscenza del gioco vinto ringarrollo mortes ti amo mi fatto venire l'idea di che gioco fare dopo tardi farò grazie ma fra il suo modo quella di paura albergo no la alfalford si chiama grazie per un gioco di paura che cazzo che mi scrivo qua si gioca la dz modo manco morto luca manco morto no ho fatto male all'acquistare no arma per te la teglia e la testina un vestimento sono me la dz annoia 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 non amore ma sono scherzo steve per caso ok conoscritto mi sto annoiando lo so anche io non trovo niente da fare svegli che era da mia costante che cosa ti devo andare sto cazzo puntato su più cosa di allora ragazzi se ne ha interesso parliamo di qualcosa di serio senza se si insomma senza cosa che gioco del caso volete che faccio l'espray perchè non ho idea anepic lo mando avanti made in kitchen e vabbè micrassum come se già non ci giocassi pippino dopo un comesto come nuovo all'espray so che non cosa fare di nuovo l'idea ma sono i giochi originali che ho soltanto un gioco scaricato ma tanto non ci metto tanto a farlo non ci metto tanto a farlo dai mi sembra un'idea ho dato il link del live a snake allora facciamo anzi facciamo un gioco facciamo un gioco un gioco un gioco molto più figo allora se nominate alcuni giochi che vorrete il display a quello che nomina il gioco che interessa a me e poi lo metterò in un listino e accanto il nome della persona che l'ha scelto il display del miglior gioco che mi consiglio che slender man minecraft no dai parlo proprio di giochi slender man posso fare degli episodi non è che posso fare ovviamente ma adesso parla parla non seguitemi la mia non mi discorso perché questo qua è importante quello che sto per dire allora adesso ognuno di voi nominerà un gioco è il gioco che sceglierete dovete metterlo tra parentesi tonde e io segnerò il vostro nome è il gioco che mi consigliate un solo gioco dopo di che aprirò una votazione colui che sceglie il gioco più votato l'aiutente vincerà un gioco e non sto scherzando non è una battuta vincerà un gioco ripeto un gioco per steam e non sto scherzando ripeto non sto scherzando il gioco non senti perché non c'è un gioco questo gioco qua non lo posso regalare minecraft è merito di black ops dove quando quando no bene ok già iniziamo a raccogliere i primi le prime loro fate per un blocco noto aspettate costo allora aggianto nei canvola non me lo segno ancora allora matematica se viene luca 002 mi consegna sempre 3 allora abbiamo detto che magari qualche visibile ma non si fa la giocatore responsabile slenderman vedo lo schermo erano lo so sono incommesso ok qualcuno che vuole cosiddetto altro gioco tra parentesi quello che scegliete non potete ovviamente scegliere uno che aggetto un'altra persona capitano più ok che finestra metto come streaming mettiamo dove sto scrivendo i nomi non 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 anche che amia su skype su facebook come così vuole da porto facebook facebook chi vuole consigliarmi un gioco metto a pensi il nome del gioco e poi per una votazione come già detto si vince un video game per asti vedete quello che io sono un dio buono sono un dio buono ce lo scrivo anche loro fai fai aspettano sempre altri commenti ma quando sono sto scrivendo più commenti semmeno mi stanno tornando scusate quello che ho scritto andrà parentesi ok luca carti non scari anni ha scritto su skype un gioco lo so dopo l'aggiungo control v provvenci di essere quella persona perchè non c'è quella persona non è piccolo che è un po' il gioco st eh vabbè eh 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 ok 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 for subito freddo rosso si becante non è che racconto film per fare grande gioco un intorno a posta che apoi da qualcun altro rango giocatore responsa inizia o alberga ho letto a letto ok altre robe, altre robe ok, continuiamo a scrivere ok, continuiamo a fare la listina della spesa e continuate, continuate voi altre idee, voi altre idee vittipite che possibili di quello che volete vedere, se non so cosa volete vedere cosa cazzo faccio impossibile corretta sacchetto ma va fanculo mi sento da facebook ok qualcun altro scritto no aspetta c'è stato detto è scritto si gmod no aspetta ora sento il prodotto almeno che andrea è apparse il video e tento l'impossibile adesso è apparso la valutazione è apparso tesoro no ma mi ci guarda solo su questi video come no per esempio se non conto di questi video non è parto di scherzi c'è se cosa ho detto prima un solo gioco per persona hai scelto gmod tdmg mod ho detto che un gioco definitivo ho tolto tanto a giocatore ho giocatore soltanto tolto la roba che ho già detto che slender ho specificato che tende a tutto lo faccio ma come gameplay non è un let's play non è un gioco in sé per sé un flash game si può anche considerare in sé per sé che è un gioco tipo un giochino nessuno ha una nuova idea finito qui salvo il documento chiudo avete 10 secondi 9 8 7 6 5 4 3 2 1 7 si può giocatore tentativi come lo dobbiamo chiamare non so come definirlo nemmeno un gioco traccio uno stronzo peggio di vero barchettipedine 5 3 3 si è rimutato per causa madre che ragazzo allora facciamo una pazzia il nostro grosso del nostro desktop ok vuoi provare a fare slender ma in diretta banca ripeto cielo se ce l'ho 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 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 6 5 6 6 7 7 5 6 6 6 6 7 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 8 7 7 9 9 9 9 9 10 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 11 12 12 12 12 12 poter aspettare la facciata aspettate faccio una cosa furbissima condivisione schermo allora adesso io sto fermo in giro e non c'è nessuno mi giro e non c'è nessuno mi giro e non c'è nessuno no si capisce qualcosa adesso? che succede? ma dov'è? perchè mi trema? dov'è? non lo vedo perchè mi trema? dov'è? ma dov'è? ma dov'è? perchè mi fa così? non lo sto guardando dov'è? ma dov'è? ma dov'è? ma non lo vedo io io non lo vedo io non l'avevo visto che era lì eh? no non so voi ma io non l'avevo visto che era lì bobo ops ho premuto esc ah è vero con ex sicchio del gioco che ha vinto ah ancora devi decidere mi intanto ha preso la lista dei giochi il giocatore e poi decide più avanti qual è chi vince che ormai vai mettere vittorato nel cuore corchi e vento e cinque quinto biglietto punisce anche senza quinto biglietto punisce cioè da quel punto biglietto c'è da quel punto biglietto di cui comincia inseguire peggio di non so che è peggio di non so che è peggio di non so che è che schermata mettiamo mettiamo questo anzi questo anzi no sbagliato questa qui ecco qua aia io 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 ad nome sa o no vedi di più di paio to the moon lo ciao shen e ciao gg alla 1.30 può venire a giocare il suo marmachi di minecraft se titola passa di pd amaci e poi un'altra cosa se un mito se un migliorito che conosca non per fare ruffiano c c c c c ok comunque ragazzi francamente voi avete io ma se abiti in germania vetti fermi mi abbi abiti in germania e ti fermi no vabbè io comunque non ho capito una cosa c'è la tua fase l'endermann io non l'ho visto che era giù in fondo in culo al mondo 5 tu l'hai visto no come scena lo scambio di me lo fermo con l'immagine e vedete che si si chiara qualcosa io di questi giocatori attendenti mi mi cron Edrosso ahahahahahah B beh ciao non lo ti ho guarda che so che non voi non sentite l'audio tra l'eccolo del microfono lo so ho per con questo live non è che per far tanto del mouse anche adesso faccio un'altra domanda ai miei carissimi quagliotubiani anch'io pensavo, c'era frangamente anche io pensavo ce lo guardavo morirevo prima poi mi saltava d'osso mi correva d'ossi mi ammazzava no, continuava a distorsi delle immagini a farmi un casino nelle orecchie ero convintissimo, lo vedevano giù in fondo a un certo punto l'ho visto pensavo mi correrà d'osso, mi picchierà a sangue si tirano i pantaloni ho fatto niente comunque dovrò passare a Twitch francamente meglio Twitch Twitch tv è decisamente meglio francamente sto streaming fa abbastanza caga esatto cosa è esattamente Twitch tv? spiega un po aia è morto ok andri tutto ok stavo giocando con la serie sono caduto per terra stavo girandomi con la serie sono caduto per terra vabbè che botta cazzo il ginocchio aia male e dolore dolore e male mare e dolore oceano tempesta da facebook facebook funzionano non funziona per un modo non 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 scomparsa sono un gattino non si chiama scomparsi il quale gattino c'è un gattino questo questo qua aspetta stanno giusto non giusto mando a segnalo mi ha avuto il caizzo ok ok dovrei tagliare più di paio in questo momento perchè apposito mi piace almeno dimentica di matrimicare perchè l'ambientino stanno un fattore il controllo quanti scritti o se non sono andati in pittà vero ora cosa ticcassi no poi piccanti no grazie o 27 scritte in pochino mentato un iscritto ok adesso ci facciamo un giro dove su facebook su facebook fate in giro perchè mi scrivono skype mi scrive pipino cosa vuoi ma sto parlando turisti no guarda chi sta parlando mia nonna per me lo stai parlando tu permette o nonno a vada ok sto cazzo è confatto xd 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 ho preso chiuso sosta bestemmia xd ho preso leggendo la scheda di giusto sebbere pipino pipino breve c'è la piccola xd xd non so se il giorno più commenti mi mostro che carino il cattino mi sembra meschieri su skype ora scrivi la u mi ricarico la pagina perchè senza le paga pipino 9 non so che farlo costo streaming per me mi condivido il desktop perché mi va se condividi con i miei amore molto detto allora angolo del nord desktop adesso non interessante interessante tu skype molto interessante s e come adesso problem con i suoi dati su posto di sfondo c'hai colico di sfondo c'hai aib non c'era sopra l'immagine di zella a me l'ho tolto e bel coso cosa non c'è svegli che il capo su destra mi troverò le persone agi d aib diarri e la troia con i tuoi di gialli non mi ricordo il nome di lei e ok simbolo quando di che c'era se quale di guaterra quale guaterra quale guaterra il il tutto è che il posto di cico le sono spariti dal tuo schermo cosa niente tranquillo allora quanto il tuo desktop è una merda perché non c'è ma in gas italy explorer che fine fatto cosa no ho scritto davide del 96 minecraft italy explorer che fin ha fatto che era mai chiesto dell'explore sono io appunto ho detto c'è pure un video nel mio canale ma non so sto prendendo il culo ma parla parla come se non ci fosse c'è se non guarda carletta persona che fin ha fatto morto morto è morto cazzo stato continuato evidente su skype un partito posto skype comunque cosa è che commento su desktop di cuore volete vedere il mio e potete vedere il mio il mio volete vedere fatto il mio ok vediamo il mio desktop un secondo per uscire dal gioco che sta pagando un contatto che parla di risposta da un segno della testa al mio allora che mi è più incasinato io non so cosa dove erano io quando mi sto come cazzo ridotto per la bellezza assurda e poi dice che il mio fa schifo io ho mai detto tutto schifo io ho detto che il mio è pieno un pochino troppo post 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 cimenti su troppi come mia amica di sordine comunque guardate qua allora guardate le mie amse si vede 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 il meglio il coperto si vede quando devo la seconda ma non si può vedere peccato ma non si vedeva si vedeva uffa che lo riapro questo qua è port tutta questo qua e l'acqua che lo pirata cacca lilla sa in malazzarro gas e corchi st purgo 8 malazzarro e mendinger e direttamente le abbiamo disegnati e falso sti sti tizzi si con peric lui è falso il fago il fagiolo il fagiolo il fagiolo il fagiolo timo l'ho fatto io si sa chiedendo anche corchi urgot figo eh disco non so più cosa fare ok ragazzi è momento di arrivare verso la fine dello streaming a sto punto quindi è momento di votare eh già attraversare quindi tornando alla raccolta non è un giro del fiat 3 albast dai due skyrim grego fai quata st che cazzo so abbiamo fatto la serie 2 a se non si ricordi non era quella della mappa x simile a portal se hai smettere togliere quali comunque serviziate io content 20 facciamo una cosa divertente allora primo per il test che insegniamo oggi che personaggi di lol non lo so uno caso disegna scivano ce la fai porco mi raccomando è più che io fa più difficile non mi basta guarda i gs troppo troppo largo ma dettagli non è che ci sono un po' votando per il loro punto non ho fatto se volete un bambino amico la serie estera epica tutte le mesi e lo so fatta a cazzo per tutto il gusto di farlo ragazzo ma posso mettere link così in quel mio canale questo che vogliono è stato vero sto disegnando troppo non sia eurgo dc per se ne è brutta anche per disegnare il pochè mara sono incontro il mio canale non è divertente as ma non posso rincarmi se che mi sono appena accorto che sono un idiota perchè se le persone in streaming hanno scelto un gioco e chiede alle persone in streaming di scegliere in gioco è normale che quelle persone mi diranno lo stesso gioco che hanno scelto toto toto guarda oh cioè se guarda che ho fatto apposta a disegnare così e non vieni a fare un altro streaming molto più tardi ti vuole no guarda che ho fatto apposta a disegnare così a cazzo non so un tipo la facciamo un altro più tardi così era una cazzo per divertirsi ma è anche con me troppo alto ma facciamo decidiamo un pregio con parole gameplay cominciare non mi sta riuscendo a distribuire se poi puoi mettere il mio canale in descrizione cosa non si scrivono devo proprio dice che li manca manca e li manca dicono sono io quindi un nuovo canale l'ho aperto scusa nel mio canale c'era c'era il video cambio canale se c'è scritto il video campare link del video cambio buco anale cambio canale non un po' se c'è un video grande o quanto una casa nel vecchio canale che dice che cambio canale iscriviti al nuovo ci facciamo altre serie come quali come cazzo si chiamano l'abbiamo fatto il software ad che forse a tenere la fa da farne il tiro se cosa devi fare poco poi quando 3 10 direggio non serve vero pp no vero che lo fai vero pp no vero che lo fai vero pp no 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 vero ahahah ma sono i che sono indietro non sono ma riavvia la pagina pp tutto fino a 1 4 un attimo e ecco qua ecco il quadro lo chiamerò vedo nero ti piace chiamerai cosa vedo nero si chiama questo nuovo disegno vedo nero su una ricetta corso che c'è il suo termini di musica il pirmini musica non interessa non 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 la guarda che fa l'ascolto che è andri che c'è fatto il tuo ritratto sai bellissima che non sarà così per me cosa è quella merda stiloso il tuo sfondo per youtube no ma tu non vuoi scordare la scusa manca l'orecchio giusto ma che acaps non è un'altra cosa più bassi imbattino al basso la barca nonostante andrassi anche sopracciglia ma non l'intero per favore l'uomo l'uomo ma miglior se sente l'eco ecco se non c'è un po' salute l'uomo il mio titolo come costa nello a non non ok e' una parte non sa non sa mi fa male non sa non non aiutare il titolo aiutare il sito dio non sa non sa prima non è non il film il film con l'accento hai sentito il mio amico ha essenti piglio la fungia la fungia tarino alla pommata spai se tipi di roma e paese tipi di rio poi se ti prendo aria e se ti prendo nella bocca della bocca per io uno schiaffo una pommata non parlare di schiaffi in faccia per favore oggi per favore allora c'è perché il vostro andrei di mitico per la scena un cazzo di don giovanni 2 esagero un po ieri sera esagerato un pochino agli amici ma la guancia tra l'avventura in vacanza 21 m adesso se la fa con la barba applausi ragazzi tutto scherzando e scherzando oggetto con lo scherzo o comunque stai scivolando giugno a questo qua quindi sarà l'istufficio dei giochi che volete come quella cicciola in cui rifinanzato si chiamava emma l'ho simpat ma sono rimasto posito la parola io mi riscordo il nome si chiama emma e devo fare una foto ragazzi poi è che mi spiegato una cosa ragazzo non lo seguono secondo me diamine come chiacchia come dimino la gamba con questa foto. di coppoli non lo scattire come cazzo peccato la gamba in quella maniera ma rimarrà un dubbio non lo so come cazzo peccato con la gamba un beato uomo fare il disegno ma è perverso sa che c'è ancora la stessa condivisione condividendo paint perciò l'hanno visto niente tu scondividendo paint stai condividendo paint ho chiuso paint mi vedo ancora paint cos'è questa roba è lo streaming ah ok se no io quell'ho messo con sbaglio un passo lo streaming che coglione eh si lo so che coglione colpa mia ma posso fare una domanda utenti che mi stanno seguendo ma quanto vi fa capi fa cadere qui vede di terra quanto mi fanno cagare ma quanto mi fanno cagare ma quanto mi fanno cagare non lo so non lo so non lo so non lo so il comitolo lusso epico mi fanno credere perché c'era serena perché c'era di noto che c'era anto che c'è che c'è tra i filoni che trovino per il cazzo nota si cercherò ma io ho fatto il mio apporto i minerali giocatori scriverò una domanda 3 commenti c'è qualcuno del frioli se ci sono io rispondono solo dopo che noi siamo pochi youtube numero il schermo non è conoscritto ho fatto il cazzo regia luna il male del telefono spazio fa un cazzo alessio online non dovrà finire si vede se vi farò vedere per un primo intanto una cosa fighissima come funziona a casa mia spettato che mi sto alzando la seria una persona di questa famiglia ha fame cosa fa? apre la porta e fa ma ho fame fatto ebbè qualcuno qualche dubbio ma ma ho fatto io sono youtube anche se ti il friuli mi devo dire io vado ritornato al secondo sto parlo prego postrello non si trattare le persone solo ma quello sono io fu un pulizzo letto messaglio messaggio rimango rimango ciao scemo come va quattro passaggi sangria troppo fin troppo tutto sono le dodici e cinquantata usa i trucchi adoro dov'è che dovrebbe essere tutti ciao scemo come va bene ho partito fama anch'io ho fama anch'io ho fama ho ho po' che posso che silenzio ciao scemo non scemo lol se il gt asana andreas perchè dovrebbe essere tutti i gt asana andreas perchè c'è anche il quadrato cerchio su giù sinistra sinistra si ricorda a memoria eh non mi credo quello della polizia però eh destra destra sinistra giù cerchio quadrato triangolo perchè non fai una serie sulla yokebox perchè tipo l'ho fatta 13 volte e' sempre la stessa no poi basta ma anche per me a suvaldo infatti non sei arco la continua offrampa ieri messi ma anche uno pro asdf movie asdf movie asdf lord and like train no like pain no no i like didada i like didada no no mai detto quel modo mai l'ho fatto apposta l'ho fatto l'ho fatto l'ho fatto l'ho fatto vediamo un po' se ce l'ho anch'io ce l'ho vuoi darlo webcam no non sono uno spirito trattori chatroulette chatroulette ah potremmo andare in chatroulette mi blocco nel canale dopo 5 secondi ah non puoi andare in chatroulette perchè come fanno i fancazzisti non è che lasciano vedere il pene durante i video non metterci il montaggio per coprire quelle parti e siamo dei streaming come dovrei eliminare quelle parti e magari non so dico non guardatevi prego hai mai parlato se le cooper si ma non mi spiega tanto ero solo mandato su chatroulette non ci voglio andare vieni su chatroulette no chatroulette no hai giocato da armadue c'è l'ho armadue originale comprato non mi piace tanto mi piace tanto però come gioco ho fame porca puttana qualcuno mi porti del cibo se vuoi di mangiare andando sei io ho fatto io devo mangiare non tu mangiare se guarda se dovete fare un po' un'altra fra andrino e' un gressino e' più magro andrino penso 70 kg eh beh però sei magro nooo ehm no 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 partenopeo mi ha appena insultato io sono un grandissimo fan di recitement non puoi dirmi che ci sono tre giochi di recitement sono tipo 9 10 giochi di recitement piccoli si 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 se per stelta . 1 2 mi distruzioni 3.1 scams capi testo come si chiamava no radobora il progetto è vero come si chiamava arrestare il humility 3 come la nottata poi c'era il gradito r kre anche a gente speciale e poi tutti quelli per me per la distruzione a viaggio nel tempo compagna bella per quello allo a giocare il video non guarda a capire la data non conta che sembra se sono due anche per tsp poi c'è ancora qualcun altro io lo giugno di tutti purtroppo io lo dico tra di domenica ne manca soltanto uno quello per centrarmi distruzione a viaggio nel tempo ce l'ho a sasso nel tempo poi quell'altro canale e poi c'è giocato solo per quello che hanno dato anche gratis su pression 3 e mancava sempre il primo anno di istruzione il primo è giocato con anni di istruzione è l'unico che mi manca non c'è un altro progetto di ritorno del cd chiusura del cd chiusura del cd trovo ho mandato chiusura cesare muori in piccari adesso vogliono per i gusti io adoro la serenità anche io anche jack and dexter anche son toltre original ciò che prende essere giocato solo il primo cd l'opera del terzo c'è il primo non è potere il secondo è il potere scuole sei potere scuole potere di luce decidiamoci cazzo un prezzo muerto settore ci portare. proteri il primo di caso la mia dio francamente è un bel gioco ma non è un certo no è un bel gioco ok tutto quanto però fiat la parola del già il titolo sbagliato non è fiat non fa paura non fa paura far ridere e fare anche qualche registra primo fiera 800 per 600 no 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 800 per 600 non ci dicevano anche le scritte anche i tuoi occhiali neanche 1080 per il mille ome neanche 1080 per un'inizio da conoscritto ma sopra è sempre meglio cazzo prima se non ho un giro glifici altrimenti si mettono che cazzo di elettro c'è davanti non sarso ma fanculo occhio voglio d'oro le bistecche adoro la carne a me non piace le bistecche anex box 360 ieri d'oro d'oretta le studiare la salsiccia non prende vendete la salsiccia la salsiccia la salsiccia la salsiccia è di valvo ma comunque è che non sono in quella salsiccia la parte del maiale si è fatto quella parte del maiale non ho fatto che mi ha confermato mi ha confermato quella parte del maiale la eredita la carne che mi scrive mettilo e che non sono nudo perché e che è stato un intero sono in uso di intanto non c'è ora e voce non è nebo e luca 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 99 barra 1 terzo piano vi aggraverò cazzo ho detto dubbi abito chi cazzo è luca allora sussu guarda guarda il tumore di paura no mi credo esiste facendo una sede su fear 3 venti che non commenta lui ma perchè mi hai mandato a fanculo ma comunque sto immaginando pure una cosa se dire pubblicamente ho mandato a fare in coro perché adoro la carne e ho fama adesso e la mare parla telefono e ho fame e parlare e parlare e ho fame e ho fame e ho fame e devo stare qui con la fame io e lasagna anche io l'xbox cesare anch'io ce l'ho io la testa centro o entrambi io tanto che l'xbox e santamini ma ti sono dieci oltre su un buco del cuore testo ti escono due del nostro chiamo favore tu fai favore e tieni qualcosa in cambio baratto per il baratto funziona ancora ma no fine ti scemo non faccio cazzate ti prendo una cosa ma cos'è che si è scritto non è scritto christy chi è christy ancora di 21 anni 360 ma che si sa che il canale youtube no no io dici sì io sto facendo live su facebook youtube no adesso sto ascoltando la sua musica preferita no no la cdc j ax questo ma l'ho fatto cadere qualcosa non so che cosa un po no 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 che silenzio no 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 ok punto che la prima roba che ha detto una bugia ma uu ah 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 muu ah 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 io la vuoi modificata da chi da suo nonno muu altre battute fallo lo vuoi vero vuoi che lo faccia ecco lo vuoi basta fare stile doppioClass ragazzi mi fate partire queste battute madonna testi vibrazione no perché l'hai fatto perché nessuno l'aspettava sul serio ciao luca tanto tra poco si chiude lo streaming quindi tranquillo non ti perderà niente ti sto prendendo per il culo ma va you don't say ok io don't say non si era capito non si era capito qualcuno con tutta la foto di christine ok che se ne incidente ok sono d'accordo con voi ragazzi m e poi boh e poi boh salti dalla sedia mori l'acqua il cucino pio ahahah tanto non si divertente dai il traspettare pedro credo che tu non faccia ridere l'acqua specifiche su skype ho accettato tutti non ho nuove amicizie guarda non mi sono amicizie nel elenco per anche guardare si mappare la schermata non si vede skype ecco vedi ho aggiunto tutte le persone che mi hanno giunto cinque secondi fa sebi simone si mi bs monster giuse 10 shut up beach mad facca maurizio chi cazzo maurizio luca ho accettato tutti quelli che mi hanno giunto non ho numeriche amicizia maurizio mi annoio lo so anche infatti tra poco vado a mangiare le cofane maurizio 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 io ho il mio diritto perché ho già provato a far andare a minecraft con questo streaming che non funziona quindi il tuo tecluso robo il cucino pio e cucina pio e cucina maurizio c'è una cosa del buzo costi finisando sto fare di discorsi importanti voglio intrattenervi parlando di co come ti chiami no andri mi chavo la scena ciao troia ciao parto mappar ai parto mazzo onvelino ti petto andri mini meeting andri the meeting esatto andri the meeting sono bello però andri the streaming assiste scende streaming facebook 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 ovvero via la città perché tutti stanno mangiando io no non lo so il nostro mangio nemmeno off a me non è stato colazione aspetti di famiglia che ha fatto colazione a fame carbonara marco mi ricordate il mio nome carbonara ragù pesto melanzane lasagne mi stai convogliando c'è una passione zucchine ricotta ma se le zucchine ricotta no la ricotta mi fa cagare ah beh solo con le zucchine niente ricotta però fa schifo che non c'è ricotta c'è un gusto diverso c'è un po' c'è un po' ma io farei ma s'ancora parlare al telefono troppo colpa sull'acqua se continuiamo così no aspetta non perché mentre parla al telefono non può mettere l'acqua su preparare no tu maestri allora ho mangiato i cappelletti con il sugo dopo ti do 5 l'hai promesso eh manuelino l'hai promesso eh che mi dai soldi solo perché mi hai detto che mi dai soldi te lo scrivo ok dai cazzo finisci su streaming ti devo andare in bagno bene passa manuelino su skype poi il tuo facebook aspetta un attimo appena appena manuelino mi aggiunge su skype e finiscono streaming ah comunque il giocatore ha detto che devo andare in bagno ma va a cagare ok 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 ho mangiato i cappelletti io sono già d'oro fammi la segna faremi in chiaro ti vuoto vuoto il corpo masso la fine la lasagna la lasagna ma siete dei garfield si peggio se per la lasagna che babbling ma da quanto cazzo sono i streaming mi sono chiesto da chiedere questo io eh la serie streaming da quasi le le 11 siamo due reti questi vabbè siamo un quasi un'ora l'ho perso le da me vieti in questo modo esatto ho sempre lo stesso il costo sto qua che mentre mangio tipo fronte un uomo 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 brutto ammortizzare ok non si tratta di un 3d il terremoto e qualche altra custo ma poi io e vuoto dopo i suoi metto che vero corriso ok se a me di me c'è da vedere non c'è ancora finire di caricati lo so devo ancora caricare quarto e l'ultimo capitolo ultimo quarto l'ultimo capitolo non ci sarò ma non ti trovo con quel nome che cazzo non mi dovrei e devo mangiare pasta e fagioli di dove sei shen friuli gorizia a me fanno schifo i fagioli a me no dipende sulla minestra ci stanno anche no ma a me mi piace nella minestra e nella pasto più zero no ma che minestrone mi fa schiacciare a stento romano il pro odio le verdure mi sono sul calcio ma comunque ci siamo uniti per un uomo finta sei buona pasta che do l'inverno è quella lì tipo pastina però con pomodoro e patate di proglie semplicissime di pulizia un po' di colore mi vuole vedere fallire eeeh 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 ho letto strada ho seguito colmo sui livelli costa amma tu sei i livelli costo ma metti skype che ti aggiungo mi aggiungi tu facciano primi chiamo manu 74 4 aggiungi manu 74 come skype manu 74 manu 74 e le richieste a manu 74 accetta la richiesta manu 74 adesso a tutti tutti quelli nostri mesi aggiungeranno manu 74 gli amici eeeh ma si aggiungeranno tutti eeeh 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 poverino eeeh 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 come non mi scappo omo eeeh 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 ma lei non è che se te l'inviata c'è te l'abatto così non è ancora citato è stato aggiunto eeeh mi ha ancora citato genio ma it florist ma anche se mercicolo come bello florist trovo qualcosa sc repubb non riesco a anche la vera sarai e la storia chiamata st st pd la vera ora pd ma vedete che se parte mi volete diventarlo un chino io questa foglia riferimentare chi vuole essere partner perciò iscrivervi essere mio palazzo posto città c'è una ragazza ma non flori su uno te lo nome skype ho trovato mamma flores che ci ha inviato la richiesta un caldo e farò dovremo per contattare con le dettivano mi stai sul cazzo anzi non spetta la trova blocca riporto l'abuso ok la pericolata il pubblico pericolata ero ripro stia b perché non ha pericolosi lì perchè non ha americ smettila ma sono suggestive sulla pancia non no ho fatto fare con una sera sulla pancia appunto aspetta però anch'io anche se trovi testo trovato 30 per faccio testo l'ho fatta perchè appoggetto un pochino sul mobile per quello fatto tutto così d allora la cittadina anche a me allora vediamo un po basta che canti cucino pio in tormento per cucina pio è stata inutile se lo sono arrivato adesso stiamo catteggiando perchè se le mucche brucchi brucchi non muccano no cazzo hai ragione non dubbio fatto fatto io non c'è ciao ma perché ti vuole mangiare tra meglio hai mai parlato a cercare google su google hai mai parlato a cercare google perchè me la scrive anche su skype proviamo proviamo perchè io leggo quello che scrive ok chiamo google su google ho trovato google e da google cerco google e trovo google entro in google e cerco google e trovo google e trovo google e ricerco google basta avete capito il concetto se conosco lo sting google ovvio questo tutto anche io mi piace prenderlo non avessi 5 il quinto episodio non ho visto non ho visto niente spoiler please ho visto pro alla fine proxy si scopre che è un ma già questo si sa che è un ms 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 il quattro episodio eh ok bene intratteni viva a cvd intrattenerti che ho portato in trattini intratteni intratteni ma bene ammiettiva quella che mi fa fare un mio dio eh intendo tempo che faccia che faccia cosa m m mamma scondi di schermo vediamo cosa fare allora no 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 questo programmino poi condividi a schermo cosa condividiamo vediamo m alfetto mi fa condividere z no vediamo 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 allora raga loro 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 tanto cucina per genere no loro 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 l'infinti robbera rai tirare scelta satme commenti che per leggero tutte non tutte tutte ovviamente sare sono proprio cazzate i rommi mi e devo evitare di leggere il padre lecce il pochino più ma che ti fai noti la quota 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 ma tanto tanto mi faccio le seghe in sito se sei bravo ho detto scherzi cazzo però se sono troppo cazzata c'è min ecco ok la vita di mangiare no adesso fattivo da mangiare quelli ragazzi io chiudo lo streaming leggi 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 no no leggi il il segmento ora mi faccio le seghe o si scherzi no mi faccio le pippe e cosa cambierebbe tra le due cose seghe e pippe infatti vabbè ragazzi questo streaming è stato abbastanza inutile non so perché c'è ancora la scritta errore di prova in alto non lo so quindi io vi saluto e ci vediamo più tardi per uno dei miei video forse caricherò anepic blog per la reale e salve il testo per la stampa vabbè allora ciao ragazzi se anche io è bai bai al prossimo video ho fatto ciò con la maniera tipo ragazzo prima o fine trasmissione sì 3 2 1 addio addio ciao a tutti i miei video ciao a tutti i miei video ciao a tutti i miei video